buongiorno a tutti eccoci qua cercando nel garage ho trovato un altro cerchio anteriore che probabilmente era quello accoppiato al posteriore con la tt90gp ovviamente in pietra visto che non sono in previsione ancora giri molto lunghi mi risparmio le gomme sui cerchi nuovi e monto questo qui che ha la gomma decisamente messa meglio poi quadrato già fatto un po di chilometri guardate qua più quadrato è così il nostro farà il nostro alza alza zip tuning by tia batteria da camion con gli adesivi per avere più cavalli alla prossima